Nome? Corinne. Cognome? Pierre Vitali. Descriviti? Curiosa? Positiva? Alternativa. Shorts o minigonna? Shorts. Tacco o zeppa? Tacco. Tanga o slip? Tanga. Chi porteresti con te per fare shopping? Porterei una mia amica stylist. Ciao Antonella. Cosa compreresti con 100 euro? Riuscirei a rifarmi completamente lo styling. Votatemi perché vi voglio bene. Ci vediamo su I Like TV. Ciao!